Teleselezione. Telefonate, duelli, spettacolo di voci e opinioni. Ideato e condotto da Luca Telese. In studio, Luca Telese e Flavio Grasselli. Su, dai, vecchio! Ma chi spara? Sono sbarcati. Dammi la linea militare, presto! Il signor Colonnello! Signor Colonnello, venente Innocenzi! Accade una cosa incredibile! I tedeschi si sono alleati con gli americani! No! Allora tutto è finito, signor Colonnello! Ma non potreste avvertire i tedeschi che stanno continuando a sparare! Mi scusi, signor Colonnello, ma cerchi di comprendere! Io ero all'oscuro di tutto! Quali sono gli ordini? Quali sono gli ordini, gridava l'8 settembre in quel capolavoro della cinematografia italiana che tutti a casa, Alberto Sordi, Alberto Sordi chiuso nella sua caserma con i tedeschi che si sono alleati con gli americani e ci sparano addosso, stare dentro una guerra e non capire da che parte si sta, stare dentro una guerra e seguire la logica della vecchia guerra ed esserne ingannati! Abbiamo pensato, ho pensato, mentre ieri mi domandavo che cosa passava nella testa dei Marò a questo film che per me è un grande ammaestramento ho pensato a questi Marò prima vezzeggiati e caricati su una nave mercantile dicendo andate ragazzi, fate il vostro dovere con le loro berrette, i loro occhiali specchiati poi dopo improvvisamente trasformati in eroi dopo invece un tragico incidente, hanno sparato su dei pescatori li hanno sparati e li hanno uccisi forse ci sarebbe voluto il tono della penitenza invece c'è stata l'apologia sono dei nostri Marò, dei nostri ragazzi, dei nostri eroi e poi è iniziato il conflitto con l'India c'era in questo confronto di mondi proprio l'idea di due diverse ragioni per l'Italia, dei nostri ragazzi che andavano recuperati dopo un'impresa eroica per gli indiani degli assassini da questo conflitto è nato un pasticcio diplomatico prima i Marò sono diventati degli eroi da far tornare a casa nella parodia grottesca del film americano Bring the Boys Home e quando li abbiamo riportati a casa ecco, questo è l'incredibile dopo che loro avevano dato la parola e dopo che i nostri diplomatici avevano dato la parola li abbiamo tenuti a casa con il trucco, con il pasticcio e l'avevamo detto qui quando c'è un inganno nello scacchiere del mondo quando l'Italia tradisce la sua parola non sono più in gioco solo loro siamo in gioco tutti noi e quindi i Marò sono diventati un simbolo un simbolo di questo paese i nostri diplomatici provavano a dire che era tutto a posto e il nostro ambasciatore finiva al confine domiciliare a questo punto i ragazzi sono diventati dei disertori dei militari che tradivano la cosa più sacra che un soldato ha e cioè che è il senso del rispetto per quello che dice e per quello che promette e alla fine di questo pasticcio alla fine di questo pasticcio vergognoso abbiamo deciso, il nostro governo ha deciso che dopo la figuraccia di aver tradito la parola se ne sommava un'altra li rimandiamo a casa ed ecco che da disertori diventano anche loro dei traditi da questo stato il cerchio si chiude li rimandiamo a casa vale più la vita dell'ambasciatore a questo punto che quella dei Marò e questi due ragazzi che ora diventano due padri traditi devono andare in India con la rassicurazione grottesca che beh però non c'è la pena di morte allora oggi che Flavio non c'è sono qui con Roberto Corradi che già conoscete come direttore del ruvido e il venerdì un po' scherziamo un po' piangiamo ma bisognerebbe veramente piangere su questo simbolo non è un simbolo isolato questo è il giorno decisivo il giorno in cui si vede con l'incarico a Bersani che cosa accadrà di questo governo e questo è il giorno in cui uscendo dalle consultazioni uno dei due gruppi grillini crini è andato davanti a dieta streaming a dire una parola che apparentemente può sembrare leggere è andato a dire Beppe è stato così bravo che è riuscito a non farlo addormentare Napolitano anche qui c'è un piccolo tradimento Napolitano che dà ripetizioni di bontonna ai grillini Grillo che capisce a che posto deve stare e per il gusto dell'apologia invece il suo sottopanza si prende nella soddisfazione di questo sberleffo l'ha tenuto sveglio in realtà siamo tutti noi che non dormiamo in questa crisi e sono loro pazzi che cantano mentre rischiamo veramente grosso teleselezione comincia qui io dolce amica mia è bello che tu sia vivace e svelta e carina come me poi con la fantasia e un tocco di magia io ora non c'è più e invece crimici sei tu pari pancun eccomi qua pari pancun ma chi lo sa se papo mamma e torscio lo sa anche io son proprio io Roberto ma è vero che sei ruvido di nome di fatto ma che ti è venuto in mente di portare questa canzone scusa per l'incantevole crime portavoce 5 stelle 5 stelle chi è che aveva dedicato una canzone a crimi prima ancora che arrivasse inquadra il fenomeno cronologico i giapponesi i giapponesi sono sempre avanti su tutto avevano già previsto questo adesso l'incantevole messora sarà difficile sarà un po' più difficile ma hai fatto caso che questi e anche la rapace come si chiama la capogruppo alla camera la Martinelli no no Martinelli il portavoce la oh la ci può capitare la capogruppo dei 5 stelle guarda come stiamo qua ma tanto non è importante basta sapere che c'è Grillo tutto il resto è una derivazione ma ti volevo dire se vi hai fatto caso che i capi sono tricologicamente portatori mentre i rappresentanti è una tua vecchia teoria no i rappresentanti no non capisco perché cioè ci deve essere qualcosa che ci sfugge messora ehm crimi perché questa scelta che ci sarà sotto sotto niente appunto no non c'è più ma a proposito di tradimenti perché forse chi è tricologicamente affranto si lega a chi è tricologicamente florido potersi quindi nella media sono come gli altri partiti cioè si fa una è perché anche Berlusconi trapiantato con Schifani che perde i capelli il riporto il riporto anzi è Angelino Alfano che fallisce il trapianto è una cosa ignobile non riuscire neanche in un trapianto voglio dire è qualcosa di veramente infimico va bene stiamo andando veramente a ruota ma adesso incombe la pubblicità e poi subito qui insieme fra noi a Teleselezione finora nonostante la dimensione del successo elettorale non è stata data alcuna rappresentanza istituzionale al Movimento 5 Stelle non la presidenza della Camera non la presidenza del Senato che sono stati oggetti di contrattazione e mercanteggiamento tra i partiti e non espressione del riconoscimento della volontà popolare il Movimento 5 Stelle ha chiesto quindi durante l'incontro con il Presidente della Repubblica un mandato pieno per potersi presentare in Parlamento e spurre il suo programma di governo che avete sentito e chiedere il voto di fiducia nel caso il Presidente della Repubblica accordi l'incarico a noi il Movimento 5 Stelle presenterà un suo candidato alla Presidenza del Consiglio se questa richiesta non venisse accolta il Movimento 5 Stelle come forza di opposizione chiederà la Presidenza delle Commissioni Copaser e Vigilanza Rai e Vigilanza Rai